Sei sicura, sei sicuro di sapere esattamente il cibo che metti nella ciotola del tuo cane e del tuo gatto? Parlando con le persone capita che ci siano informazioni che ben poco sanno. Diverse persone comprano il cibo industriale nei supermercati e nei vari negozi senza sapere capire esattamente che cibo stanno dando al loro cane. Alcuni scelgono una marca, altri scelgono il cibo perché magari c'è la frutta o ci sono alcuni ingredienti, altri perché gli è stato parlato per vari motivi. Molti credono che i propri cani o il proprio gatto stiano bene perché fanno le feci sode, ma tutto questo non è assolutamente vero perché le feci sode non sono l'unico riferimento di una buona salute, anzi spesso nel cibo industriale si trovano degli addensanti, compattanti o cellulosa o lignocellulosa tra gli ingredienti che servono a compattare le feci e quindi a nascondere al proprietario che magari il cibo è poco sano. Le persone credono di essere informate, tuttavia diverse persone non sanno la marca che stanno dando o il nome del prodotto o non se lo ricordano e sanno poco o nulla dell'etichetta di saper leggere gli ingredienti. Un cibo sano deve avere come il primo ingrediente la carne e non deve essere pieno di cereali e sostanze strane, non deve avere proteine disidratate o proteine idrolizzate o farina di carne, di pesce, di ossa, diciture strane che sono lontane da un cibo sano che si va ad assomigliare a quelle che sarebbero le caratteristiche di una preda. Principalmente il cane è un carnivoro, un carnivoro diciamo che si è adattato anche a mangiare sostanze diverse e bisogna fare attenzione a come viene alimentato perché alimentazione e nutrizione non sono la stessa cosa ed è importante capire che ci sono persone per esempio che comprano del cibo ma io spendo tanto ho comprato quella marca oppure c'è altri che dicono ma io spesso tanto spesso poco va capito cosa c'è dentro al cibo che state dando al vostro cane che non è nel breve termine che vi accorgerete che il vostro cane potrebbe stare male ma è nel medio e nel lungo termine e quindi ci sono poi tanti segnali di intossicazione del cane che possono essere dal prurito, dalle ermatiti, da gastrite, lacrimazione agli occhi, occhi arrossati, ci possa essere della malassezia negli orecchi, il leccarsi delle zampe, ci sono tanti segnali. Se vuoi saperne di più mi puoi contattare per una presentazione e una consulenza gratuita di un cibo sano che proviene da animali da pascolo che mangiano l'erba. Nel mio sito puoi leggere anche le testimonianze. Ciao io sono Stefano Pesci, istruttore e doatore cinofilo comportamentale, consulente alimentare cibo sano per un cane sano, specializzazione norvegese nella risoluzione dei problemi nel benessere del cane, nel comportamento del cane, ideatore del metodo to get a dog, le share un cane insegnante che mangia cibo sano che proviene da animali da pascolo che mangiano erba. Il mio sito internet è www.istruttorecinofilo.it. Se ti fa piacere mi puoi contattare dal mio sito e anche leggere le testimonianze di chi ha beneficiato della consulenza alimentare gratuita di cibo sano che proviene da animali da pascolo che mangiano erba. Cibo sano per cani e gatti. Ciao da Stefano e da Sharon.